Iserni al voto, ultimo comizio per Piero Castrataro, Gabriele Melogli e Cosmo Tedeschi. Si scatta il silenzio elettorale alle urne domani e dopodomani più di 19.000 Isernini che hanno diritto di esprimere la loro preferenza. Amministrative si vota in 30 comuni dopo il forfè di Chiauci, alle urne con le mascherine e rispettando il distanziamento. Prima votazione molisana ai tempi del Covid. Oggi si celebra la festa dei nonni. Grazie per la vostra testimonianza, le parole di Papa Francesco, la psicologa, hanno un ruolo centrale nella famiglia e nella società. Finto messaggio da poste italiane, 26enne truffato sulla rete, il giovane accredita 4.000 euro ad un truffatore identificato ed incastrato dai carabinieri. A termoli la presentazione di Pescagrimolise. L'obiettivo è sostenere il mondo della pesca senza divisioni e sfruttando i fondi europei per risolvere i problemi. Le parole di Campolieti, direttore Cia. Infine lo sport, il calcio di Lega Pro, Campobasso atteso da una prova d'orgoglio domani contro la Paganese. Out sbardella è giunta, rientra Fabriani e Mausso in panca, Rossetti certo della 9, servono i tre punti per riprendere il cammino salvezza. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione. In apertura ci sono le amministrative Isernia al voto, è scattato il silenzio elettorale. Allora vediamo nel servizio curato per noi da Nicola De Santis come i tre candidati alla carica di sindaco della città, Piero Castrataro, Gabriele Meloie e Cosmo Tedeschi, hanno deciso di chiudere la campagna elettorale. Sentite. A mezzanotte è scattato il silenzio elettorale. I tre candidati alla carica di sindaco per la città di Isernia hanno dovuto affrontare comizi conclusivi di una campagna elettorale non eccessivamente lunga ma sicuramente molto impegnativa. Cosmo Tedeschi, imprenditore, rappresentante di tre liste civiche della lista di fratelli d'Italia, ha scelto Piazza Andrea di Isernia per parlare ai cittadini, ad aprire i lavori gli interventi di Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale del partito della Meloni, e di Michele Iorio, ex governatore della regione. Entrambi hanno rimarcato la necessità di votare i tedeschi per dare una svolta a Isernia. Dal canto suo, il candidato sindaco ha parlato della volontà di difendere l'ospedale veneziale e di rilanciare l'economia del territorio. Piero Castrataro, esponente del centro-sinistra, ha invece chiuso la campagna elettorale in piazza 10 settembre. Nel suo intervento ha rimarcato la coesione della coalizione che lo sostiene. Ha indicato quelli che a suo avviso sono stati i fallimenti dell'amministrazione di centro-destra. Ha puntato su sanità e borgate, annunciando di voler creare le condizioni per i giovani di restare a Isernia e per chi è partito di tornare in una città finalmente moderna, vicina all'Europa, in grado di dare risposte ai suoi figli. Gabriele Melogli ha diviso in due momenti la chiusura della campagna elettorale, decidendo di parlare ai cittadini sia in piazza Celestino V sia in piazza Stazione. L'avvocato ha voluto, accanto a sé, i giovani della sua lista, ad assistere al suo comizio conclusivo il presidente della regione Donato Toma, la coordinatrice di Forza Italia Anna Elsa Tartaglione, il coordinatore della Lega Iaricolla, l'europarlamentare Aldo Patriciello. In prima fila anche la giunta regionale nella sua interezza, fatta eccezione per Vincenzo Niro, impegnato nella chiusura della campagna elettorale a Baranello. L'avvocato Isernino ha ribadito la coerenza della sua candidatura nel perimetro di quello che a suo avviso è il vero centrodestra, rimarcando le distanze nel modo di fare politica sia da tedeschi sia da castrataro. Si vota in 30 comuni, 29 oltre Isernia, 30 perché c'è stato il forfè di Chiauci alle urne con le mascherine e rispettando il distanziamento. Prima votazione molisana ai tempi del Covid, sentite. Erano 31, sono diventati 30 dopo il forfè di Chiauci dove non si è candidato nessuno e dove arriverà il commissario prefettizio. Si vota dunque in 30 centri della regione, sono poco più di 57 mila molisani chiamati alle urne domani e lunedì mattina fino alle 15 ai seggi, mascherina e distanziamento. E voto a domicilio per chi è in quarantena, sono le amministrative al tempo del Covid. Il comune più grande è Isernia, con più di 19 mila venti diritto al voto. E dove è possibile il ballottaggio? Il più piccolo è Molise, con 150 elettori. Si vota in altri 13 comuni della provincia di Campobasso, Baranello, Casa Calenda, Civita Campomarano, Guardia Reggia, Matrice, Morrone del Sagno, Porto Cannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi. In provincia di Isernia, oltre che nel capoluogo, si vota ad Acquaviva di Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sagno, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Colli a Vulturno, Forli del Sagno, Monte Roduni, Pesche e Pescolanciano, Petto Ranello del Molise, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana. In cinque comuni si torna alle urne senza avere il sindaco uscente in carica. A Rotello si vota con due anni e mezzo di anticipo. dopo il decesso del primo cittadino Michele Miniello, eletto nel 2019. A Casacalenda c'è il commissario, dopo che Sabrina Lallitto ha perso la maggioranza. A Monteroduni invece le elezioni del 2019 sono state annullate dal Consiglio di Stato dopo la vittoria per un solo voto di custode russo. Maggioranza di missionari a Petto Ranello e comune commissariato. In fine Pizzone, anche qui c'è il commissario perché non è stato approvato il bilancio. Parliamo del coronavirus. Numeri molto confortanti per il Molise dall'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel servizio ascolteremo anche le parole del professore Rezza. Incidenza nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Il Molise fa registrare il tasso più basso d'Italia, 9,1. La settimana scorsa era 14,5. Quella ancora prima, 17,2. La media nazionale è invece 37. Numeri contenuti nell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Diminuiscono anche gli indici di occupazione dell'area medica, 0,6% e della terapia intensiva, 2,6%. Questo il commento del professore Rezza. Questa settimana continua a diminuire il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese che si fissa intorno a 37 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT rimane stabile a 0,83% e quindi ben al di sotto dell'unità e questo naturalmente è un dato positivo. Per quanto riguarda il tasso di occupazione nei posti di area medica e di terapia intensiva siamo rispettivamente al 5,5% e al 4,6%, quindi molto al di sotto della soglia critica. Nel nostro paese quindi la situazione epidemiologica in questo momento è buona, migliore di altri paesi e questo sembra essere il frutto di un combinato disposto fra una campagna di vaccinazione di successo e dei comportamenti individuali che continuano ad essere ispirati alla prudenza. Cambiamo argomento, oggi si celebra la festa dei nonni, una giornata speciale per ricordare la loro importanza in tutte le famiglie ma anche nella società. Andrea Vertolo. Tanti auguri a tutti i nonni, compresa me. Punti di riferimento nella famiglia sono loro, spesso ad aver costruito quelle basi solide su cui i figli e i nipoti fanno ancora affidamento, sono i nonni e le nonne, figure cardine, sempre più importanti e oggi si ha l'occasione per ricordarlo. La festa dei nonni è stata istituita in Italia nel 2005, mentre in altri paesi del mondo era già presente. Un momento utile per esprimere tutto l'affetto che meritano per chi ha ancora la fortuna di averli al proprio fianco. Un giorno speciale per condividere sorrisi e abbracci. Lei lo sa che oggi è la festa dei nonni? Sì. Sta portando la nipotina a una festa speciale? Se vale ancora il vecchio detto sì, però non so quanto glielo diano di importanza adesso. È una festa importante, comunque i nipoti, chi sta a Milano, chi sta a fare l'università, la cosa. Non ha telefonato, ma non ce l'ho vicino. Quanti nipoti avete? Io ce ne ho due, uno a Campobasso e uno a Germania. E sono la gioia, sono la gioia proprio, sono grandi. Sono i primi della nostra vita, io ne ho quattro, due a Riccia e due a Campobasso. Guarda, si vive, poi hanno un'intelligenza questi bambini, una cosa che noi non vediamo, sono svegli, ma sono veramente in campo questi bambini. Sono i bambini del futuro. Oggi però si festeggiano i nonni e quindi è parte importante della famiglia. È normale, è normale, cioè i nonni sono grandi e se non ci fossero i nonni la maggior parte... Se non ci fossero i nostri figli, specialmente i figli che lavorano oggi, hanno bisogno dei nonni. Se non ci fossero i nonni, chissà come saremo in questo mondo. Festa dei nonni, in molti sceglieranno di regalare un fiore, è così? Sì, sicuramente, perché è il gesto più semplice, più carino da fare e anche meno dispendioso. Però è un modo per dire a nonno, a nonna, tanti auguri, ti ho pensato, con tanto affetto sicuramente. C'è una vasta scelta perché ogni fiore può rappresentare questo. Sì, ognuno poi lo sceglie in base... i fiori hanno tantissimi colori, quindi sono bellissimi. Ognuno in base al proprio gusto, in base anche al nonno, alla nonna, cosa vogliono simboleggiare. Non c'è un fiore in particolare che si regala in questa occasione, però è semplicemente un gesto per dire auguri. Dio ha un popolo numeroso di nonni, loro sono testimoni privilegiati dell'amore fedele di Dio, l'anello indispensabile per educare alla fede i piccoli e i giovani, a tutti i nonni e le nonne. Tanti auguri e grazie per la vostra testimonianza, lo ha detto Papa Francesco in un tweet nel giorno in cui si celebra la festa dei nonni. I nonni hanno un ruolo centrale nella famiglia, ma anche nella società, così invece la psicologa Francesca Capozza, nel giorno in cui si celebra la festa dei nonni. Sentiamo qual è il suo commento. Celebrare oggi la ricorrenza della festa dei nonni ci consente di riflettere sullo ruolo centrale che essi hanno e svolgono all'interno della famiglia, ma anche della società in generale. Innanzitutto come memoria storica vivente e quindi come posto di significati, di storie, di narrazioni che vediamo i bambini aver sete di conoscere, di sapere, storie in cui immedesimarsi, riconoscersi e per le quali sognare. E' importante infatti riconoscere non soltanto l'apporto materiale, pratico, concreto, che i nonni possono apportare nella vita, nella gestione, ecco, dei bisogni e della vita quotidiana dei propri nipoti, ma soprattutto come supporto affettivo, emotivo, psicologico, ovvero punti di riferimento che mantengono e favoriscono un senso di continuità e il senso specifico della propria identità all'interno della propria famiglia, ma all'interno anche della comunità. Ed è importante allora per tutti questi motivi sostenere, alimentare positivamente il rapporto tra i nonni ed i nipoti a qualunque latitudine essi si trovino. Restiamo sull'argomento perché l'Anteas, l'Associazione Nazionale Tutte le Età che vede al vertice in Molise Luigi Pietro Simone, in occasione della festa dei nonni, vuole rivolgere a loro un grande augurio, un sentito ringraziamento di vero cuore per quello che fanno per i loro nipoti. Una giornata speciale che permetterà a tutti i nipoti di stare insieme ai propri amati familiari e mostrare il loro affetto e riconoscenza. Essi, si legge in una nota ufficiale, sono il pilastro di questa pandemia, sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, non solo in termini di vite umane, sono l'ammortizzatore ma anche il collante sociale più attivo nel tessuto regionale, molisano, l'anello di congiunzione tra adulti e bambini, figli e genitori. Senza di loro molte famiglie disagiate non riuscirebbero ad arrivare a fine mese, sottolinea il presidente di Anteas Molise Luigi Pietro Simone, perché aggiunge spesso sprovviste di mezzi per poter affidare i propri bambini ad una babysitter nell'impossibilità di poterli accudire 24 ore su 24. Sono dunque un elemento fondamentale della famiglia. E noi ci occupiamo di cronaca. I carabinieri della stazione di Campobasso hanno individuato e denunciato in stato di libertà l'ennesimo truffatore che operava sulla rete. Un 26enne molisano che con artifici e raggiri è stato indotto, mediante la ricezione di un finto SMS da parte di Poste Italiane, ad inserire i propri dati anagrafici e bancari su una pagina web del tutto identica a quella delle Poste. Seguendo poi le indicazioni fornite per telefono al presunto operatore, il 26enne eseguiva, senza rendersene conto, un accredito pari ad un importo di 4.000 euro sul conto corrente del disonesto e il malcapitato. Ha poi ovviamente denunciato. I carabinieri hanno scoperto, dopo aver fatto le loro indagini, che la somma era stata accreditata sul conto corrente intestato ad un 34enne con precedenti specifici, 34enne della provincia di Napoli. Ed anche l'utenza telefonica utilizzata per contattare linea vittima era intestata alla stessa persona. L'arma dei carabinieri per questo raccomanda la massima prudenza nella navigazione online ed in particolare nelle transazioni per acquisto di beni e servizi. Caporalato sui migranti irregolari è stato scoperto dai carabinieri, è successo a Campomarino e Castro Pignano. Nel registro degli indagati sono finiti una donna di 46 anni, il socio di 52, accusati di aver impiegato manodopera straniera sprovvista del regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Reclutati in un'azienda agricola di Campomarino, pagati meno di 5 euro all'ora per infinite ore di lavoro, senza contratto di lavoro, senza permesso di soggiorno e costretti a condizioni igienico, sanitarie, precarie. Nell'azienda agricola di Campomarino i militari sono riusciti a fermare soltanto 4 dei migranti che erano al lavoro. Gli altri invece sono fuggiti nelle campagne, tutti irregolari. La denuncia è scattata ovviamente per i titolari delle aziende e è scattata anche la sospensione dell'attività. Stessi controlli sono stati eseguiti anche in un'azienda di allevamento di Castro Pignano. Cambiamo argomento a Termoli, la presentazione di Pescagri Molise. L'obiettivo è quello di sostenere il mondo della pesca senza dividere e sfruttando i fondi europei per risolvere i problemi. Le parole del direttore della CIA Campolieti. Abbiamo seguito la presentazione ufficiale che si è tenuta ieri sera a Termoli. Sentite. Pescagri Molise nasce con l'obiettivo di sostenere il mondo della pesca. Ieri sera a Termoli, al porto turistico Marina di San Pietro, la presentazione ufficiale dell'associazione dedicata alla pesca e all'acquacoltura. Il mondo legato alla pesca, ha spiegato il direttore CIA Agricoltori Italiani del Molise, donato Campolieti alle sue peculiarità ed è quindi necessaria l'esistenza di una struttura dedicata al settore. Sono molte le problematiche che riguardano il comparto e per questo, ha aggiunto Campolieti, serve maggiore attenzione, tutela e sviluppo dedicato e serve, ha concluso Campolieti, cogliere al volo l'opportunità dei fondi europei. La nuova associazione saprà dare maggiore spinta e saprà individuare la migliore strategia per tutelare e incentivare l'arte della pesca e dell'acquacoltura. Alla presentazione, oltre a Nicolino Putalivo, presidente CIA Agricoltori Italiani del Molise, e il professore Pierluigi Milone dell'Università di Perugia, c'era il direttore nazionale di Pesca Agri, Marilena Fusco. L'intento, ha detto, è quello di aggregare e non dividere sulla scia di quanto già accaduto in altre regioni. Pesca Agri nasce anche in Molise, è una realtà che è partita un anno fa dal nazionale, da Roma, dove CIA Agricoltori Italiani ha ritenuto necessario ampliare il proprio parterre di consulenze, di disponibilità verso il primario, con l'acquisizione, la formazione, il via al settore ittico e dell'acquacoltura, perché CIA era l'unica associazione a livello nazionale che ancora non si occupava di questo settore. Le richieste sono state tante del settore, richieste anche motivate dalle grosse difficoltà che sta vivendo oggi il settore ittico in tutta Italia, e noi abbiamo iniziato dal nazionale e adesso stiamo aprendo tutte le sedi Pesca Agri dentro le sedi CIA regionali. Abbiamo già lanciato Pesca Agri Campania, Pesca Agri Veneto, Pesca Agri Emilia Romagna, Pesca Agri Sicilia e adesso siamo qui in Molise. Quello ittico è un settore con forti criticità, per questo è necessaria la massima collaborazione istituzionale. C'è una maggiore consapevolezza nel settore circa anche la complessità di una serie di procedure amministrative che sono ormai diventate indispensabili perché il settore possa svilupparsi nel migliore dei modi. Si parla di una risorsa che affonda le sue radici nella più profonda marineria termolese ed è giusto che si adegui a dotarsi di quegli strumenti che poi risultano indispensabili per poter far fronte anche alle difficoltà imprenditoriali che oggi devono affrontare. Collaborazione necessaria anche per garantire il prodotto che finisce sulle nostre tavole come sottolineato dal comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, intervistato dal collega Emanuele Bracone. È notizia di ieri dove una ricerca della UECO Pesca mette in evidenza i rischi di frode per quanto riguarda il pesce che arriva sulle nostre tavole dall'estero. Si tratta di un rischio concreto, un rischio che effettivamente deve essere fronteggiato con controlli sempre più accorti. Direi che oltre a quelle che sono le autorità e le forze di polizia che istituzionalmente svolgono questi controlli, è importante che vi sia anche una presa di coscienza di coloro i quali operano nel settore perché comportamenti scorretti di questo tipo finiscono poi col danneggiare tutti. Alla neonata associazione il saluto e gli auguri del sindaco Francesco Roberti. C'è una perfetta sinergia, un obiettivo comune perché è una parte di un settore economico trainante per il nostro comune, per la nostra realtà e quindi ci sono tutte le dovute attenzioni perché questo possa continuare a crescere questo settore della pesca e c'è un buon rapporto istituzionale per dare risposte sia agli operatori che a chi vive nel mondo della pesca. Ed ad Expo Dubai ha aperto il padiglione Italia che parla al mondo raccontando il meglio delle tradizioni e dell'innovazione del paese. Alla più grande esposizione universale che per la prima volta si svolge nel mondo arabo è presente anche il Molise con una delle sue migliori scuole, il Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso, premiata con un prestigioso riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione. L'Istituto Molisano è infatti tra le cinque scuole italiane selezionate per partecipare allo school mode che si tiene appunto nel padiglione Italia in occasione dell'apertura di Expo Dubai 2020. Chiara Spina e Giuseppe Pio Pozzuto della Scuola del Capologo Regionale guidata dal dirigente Umberto Di Lallo, accompagnati dal prof Mario Ferrocino, fanno parte della squadra italiana composta da dieci studenti che lavoreranno con l'innovativo metodo denominato MUD elaborato dal dottor Lorenzo Micheli insieme ad altri coetani degli Emirati Arabi Uniti. Bene, questa era la nostra ultima notizia, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per domenica, 3 ottobre, sul Molise prevale il bel tempo, sporadici annuvolamenti nel pomeriggio, venti deboli, mare mosso, queste le temperature nei maggiori centri della regione, Campobasso minima 13, massima 22, Chisernia minima 15, massima 21, Termoli minima 16, massima 28, Venafro minima 14, massima 22 gradi. Per il momento è tutto, linea alla regia, consigli per gli acquisti, ma restate con noi perché tra pochissimo c'è la pagina sportiva. A tra poco dunque. Lo sport, il calcio, la Lega Pro, settima giornata, vediamo allora il quadro completo con tutti gli incontri in programma. Bari Monopoli e Campobasso Paganese si giocano domani insieme a Foggia Messina, Monterosi Avellino, Turris Latina, Vibonese Potenza, Virtus Francavilla Taranto. In campo invece lunedì Juve Stabia Palermo e Picerno Catania, martedì Catanzaro Fidelissandria. E il Campobasso è in cerca del riscatto dopo lo stop infrasettimanale di Palermo. Abbiamo diverse le novità nella formazione rosso-blu e ascoltiamo le ultime nel servizio. Campobasso atteso da una prova d'orgoglio dopo la sconfitta di Palermo e dopo il passo falso casalingo contro la Fidelissandria. Resettare e ripartire, come dice Patron Mario Gesuè, dimostrare di meritare la Lega Pro. Ma per ripartire bisogna evitare le amnesie difensive che dall'inizio della stagione caratterizzano le prestazioni dei Lupi e gli approcci leggeri, come avvenuto nel turno infrasettimanale. Insomma, il Campobasso non può permettersi di regalare gol agli avversari, non può permettersi il lusso di partire con l'handicap. Al Romagnoli arriva una Paganese lanciatissima e per fermarla servirà il miglior Campobasso possibile, modulo 4-3-3, sulla formazione invece possibili diversi cambiamenti provati. in il corso della rifinitura di oggi. Certo, il rientro dal primo minuto dell'esterno di difesa Fabriani non saranno disponibili invece Giunta e Sbardella, squalificati per un turno dal giudice sportivo. Novità prevista in attacco, dove solo il centravanti Rossetti è sicuro della maglia da titolare. Emma Usso ha deluso e dovrebbe accomodarsi in panchina. Liguori in rampa di lancio, Vitali in forse. L'obiettivo? Vincere, perché la classifica inizia a farsi pericolosa e la piazza inizia a rumoreggiare. E domani in campo la serie D, andiamo nel raggruppamento F terza giornata. Con la grafica vediamo tutti gli incontri che sono in programma. A Alto, Casertano, Pineto, Castelnuovo, Vastese, Fano, Castelfidardo, Fiuggi, San Benedettese, Nereto, Notaresco, Porto di Ascoli, Chieti, Re Canatese, Montegiorgio, Trastevere, Tolentino e Vasto Girardi, Matese, con il Vasto Girardi che ha già affrontato la formazione di Corrado Urbano in Coppa Italia a domicilio e l'ha battuta. Ma il campionato, come si sa, è un'altra cosa. Dunque staremo a vedere come andrà a finire il match tra Vasto Girardi e Matese. E ora parliamo di Fuzza, il sedicesimo elemento nell'organico dello Sporting Venafro alla corte del tecnico Tavone. Sarà presente anche l'esperto elemento autoctono Francesco Valvona dopo quasi un anno e mezzo di stop a causa del Covid-19. Questa chiamata per me, ha affermato il giocatore, è una gran bella soddisfazione perché ripartire con un team come lo Sporting Venafro che ho visto nascere è una sensazione unica e non posso far altro che ringraziare il presidente Gianluca Primavera, dice Valvona, per questa opportunità che mi sta fornendo e che mi consente di ritrovare le categorie nazionali. In bocca al lupo dunque a Francesco Valvona e allo Sporting Venafro. Bene, è tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Buona continuazione con la nostra informazione. Arrivederci.